come promesso a distanza di una settimana torno sul canale per mantenere questa cadenza salvo problematiche ho cambiato il sciuffo adesso è blu notte ed è l'ultimo podcast di servizio l'ultimo video di servizio nel quale vi racconto le novità di gameplay caffè perché ci sono un bel po di novità legate sia gameplay caffè sito che i miei colleghi che questo canale youtube perché sono passati quasi quattro anni pensate 9 aprile faremo quattro anni un progetto fantastico ricordando il 2017 quando ho lasciato multiplayer punti grazie al vostro super supporto anche semplicemente mentale di messaggi abbiamo creato tanzane friends il gruppo facebook e nell'aprile del 2018 abbiamo lanciato gameplay caffè da una pizzeria a roma col bottone rosso eravamo più di 50 persone e da lì abbiamo fatto tantissime cose fighe insieme no a partire dal crowdfunding che ci ha dato un supporto clamoroso due crowdfunding per oltre 23 mila euro che ci hanno permesso di pagare tutti i collaboratori anche da una realtà piccolissima minuscola dove grazie a questi crowdfunding abbiamo pagato tutti quanti gli articoli le news chiaramente con prezzi se vogliamo anche ridicoli di mercato ancora più bassi di quello di mercato però abbiamo evitato di fare tutto soltanto per la gloria per il codice regalato perché magari tanti di voi eravate miei estimatori e lettori durante gli anni e l'epoca d'oro abbiamo fatto le pizzate insieme abbiamo lanciato il let show dei poveri che poi alla fine non era assolutamente una novità però era un qualcosa che poi ha finalmente aperto un barco perché tutti i siti anche quelli più importanti hanno cominciato a invitare youtuber influencer a invitarsi tra di loro si è creato un maggiore senso di community abbiamo fatto le dirette abbiamo fatto dei video specifici e una serie costante di podcast senza montaggio soltanto con me davanti alla telecamera che sono stati apprezzati alcuni sono andati davvero molto molto bene ecco riallacciandomi al podcast di rilancio della settimana scorsa volevo raccontarvi di un po di novità la prima più forte è quella che abbiamo deciso di abbandonare la richiesta dei codici per le recensioni ebbene sì in una mossa forse un po in controtendenza sicuramente non è l'unico non siamo i primi non siamo gli unici abbiamo deciso di non chiedere più i codici ai vari produttori per avere i giochi in anteprima per parlarvene sul sito soprattutto ma anche qui in anteprima scadenza embargo ma vogliamo fare un processo contrario e la prima grande denuncia che ho fatto è stata quella di horizon del nuovo horizon mi è arrivata anche a me la mail di richiesta codice se volevo essere incluso nella tornata dei codici pre uscita a poi a san valentino dovrebbe scadere l'embargo per tutte le recensioni nel gioco e io ho declinato l'invito senza cattiveria ovviamente proprio perché siamo in vista di questo nuovo corso i codici ne ho raccontato forse un podcast gli embarghi come funzionano questo questo patto giustamente tra avere il gioco in anticipo seguire un embargo evitare spoiler evitare di parlarne prima perché per ragioni anche chiaramente di comunicazione di coordinamento della comunicazione da parte di tutti i produttori codici che che possono portare in dono chiaramente una maggiore visibilità ed essere sul pezzo da parte di un sito grande e piccolo che sia dall'altro portano nei paletti e non tutti chiaramente supportano le realtà piccole come gameplay caffè rispetto ad esempio multipla.it un evriai uno spazio games e così via devo essere sincero ringrazio innanzitutto tantissimo sony partendo proprio da sony che è stata sempre sul pezzo se vi ricordate il lancio di gameplay caffè abbiamo recensito go the war insieme a tutti quanti gli altri e tantissimi altri giochi the last of us parte 2 recette clank tutti i giochi sony sony ci ha sempre supportato tantissimo come se fossimo un grande sito con la mia garanzia ovviamente di tanti anni su multipla.it quindi rispettare l'embargo di non fare cappellate poi altri tipo coach media nintendo a fasi alterne e mentre altri magari sono stati meno parchi sono stati meno generosi come microsoft che in realtà purtroppo ha questo grande problema di essere assente praticamente in italia c'è un'agenzia però anche nella fase di lancio della nuova console non ha supportato praticamente nessuno sono super big sempre poco responsiva però ecco ci sono stati dei dei picchi e anche non dei picchi chiaramente non siamo stati sempre coinvolti forse soltanto sony davvero ci ha coinvolto in tutti i giochi grandi e piccoli altri magari hanno fatto una selezione ovviamente perché gameplay caffè è un punto nell'universo ci sta che non venga trattato come i grandi siti anche se un codice digitale con la mia garanzia poteva essere elargito comunque per cercare di parlarvi anche noi in anteprima però ci sono varie situazioni rapporti personali oppure comunque il fatto che non tutti i produttori sono presenti così forti in italia e quindi ci sono stati un po degli alti e bassi che mi hanno portato insieme ai colleghi ad fare questa decisione perché star dietro a delle dinamiche delle scadenze quando il progetto gameplay caffè è un progetto invece di rilassamento parlare di videogiochi con un piglio differente quando possibile ha una nicchia ristretta senza ansia senza clickbait senza la volontà di essere una copia carbone allora nell'ottica di trovare nuove idee nuovi stimoli abbiamo deciso di abbandonare completamente la richiesta dei codici e recensire i videogiochi a partire dal day one perché a questo punto i giochi ce li compriamo noi ce li compriamo noi abbiamo deciso di stanziare anche grazie a vostri crowdfunding e grazie delle idee che di cui vi parlerò nelle prossime settimane e mese finanziarci l'acquisto di giochi sia tripla sia degli indie perché è importante parlare anche delle chicche poi servizi proprio come il game pass ci vengono in aiuto perché con abbonamenti tra virgolette ridotti riusciamo ad accedere a tutti i titoli first party the one diversi titoli successivamente quindi riusciamo ad avere una panoramica poi chiaramente da spirito del progetto non parleremo di tutto parleremo di quello che sarà possibile in base al budget in base alla tempistica di noi di mia e di tutti i collaboratori e alla base di quello che ritorniamo riteniamo interessante la recensione sarà differente ovviamente perché usciremo 7 10 15 giorni dopo abbiamo deciso di impostare le recensioni sotto forma di diario una cosa differente dal solito quando compriamo il gioco a cadenza regolare cominciamo a pubblicare sul sito e talvolta anche qui su youtube una sorta di diario di bordo un articolo che viene aggiornato nel corso del tempo con le impressioni quasi in tempo reale no e le prime impressioni dopo le prime di ore di gioco sulla grafica sui menu sulle caratteristiche e poi un aggiornamento magari a un terzo di gioco a metà di gioco a fine gioco e poi un commento finale un po più istituzionale col voto quindi la recensione si evolve nel corso del tempo con impressioni genuine differenti che dovrebbero diciamo appassionarvi non soltanto perché diamo il nostro giudizio magari siete ancora interessati qualcuno di voi a sapere cosa ne penso io o cosa ne pensa gameplay caffè ma anche un racconto un po più personale sul pezzo che non conosce quello che viene dopo magari impressioni super positive che poi dopo diventano negative nel corso del tempo oppure impressioni tiepide che poi diventano entusiaste man mano che si va avanti nel gioco e si finisce senza darci dei paletti una data precisa il gioco esce lo compriamo anche noi soprattutto i super tripla quelli che escono su game pass in interessanti qualche suggerimento la parte vostra e poi andiamo avanti nella scrittura recensione che forse diventa un po frankenstein ma tanto è sempre la stessa persona che la scrive ovviamente e poi con un giudizio un po più professionale tra virgolette perché è frutto di un qualcosa che è arrivato dopo aver finito il gioco sicuramente mi occuperò io di horizon con questo sistema ci saranno i nostri collaboratori e vogliamo rendere il progetto gameplay caffè ancora più community quindi da ora da questo momento scrivendo a scemo chi legge chiocciola gameplay punto caffè oppure iscrivendovi al gruppo ufficiale telegram chiaramente trovate i link in descrizione su facebook comunque andremo a pubblicare questo video li apriamo alla grandissima le candidature se volete scrivere di videogiochi se volete fare news sui videogiochi se volete provare a fare video sui videogiochi siamo ancora più aperti facendo sempre un filtro perché purtroppo o per fortuna un minimo di controllo qualità ci deve essere ma vogliamo tornare all'inizio del progetto vogliamo essere ancora di più di noi e siamo già 30 nel gruppo relazionale qualcuno non scrive più qualcuno scrive ogni tanto qualcuno è rimasto perché poi ragazzi sono diventati tutti amici al mio compleanno giugno vengono tutti quanti qui a terni addirittura e facciamo una pizzata ci vediamo durante il corso dell'anno al comic con al games week oppure semplicemente in giro tanti che erano miei lettori qualcuno addirittura da fan è diventato amico ci sentiamo giornalmente nel gruppo cazzeggiamo e quindi si è creata una bella situazione virtuosa che anche a me fa gioia perché mi permette di parlare sempre di più di videogiochi anche quando magari i numeri non ci supportano più come all'inizio per tanti motivi che già ho spiegato nel podcast precedente vogliamo nuove leve vogliamo persone che vogliamo mettersi in gioco che non hanno mai scritto che hanno scritto che vogliono sfogare perché poi al di là di queste recensioni diario vogliamo riaccelerare su articoli di opinione editoriali speciali particolari parlare di piccoli aspetti di nicchia dei videogiochi vogliamo sfogare la nostra passione vogliamo creare di nuovo vogliamo ripotenziare riannaffiare quel concetto di vivaio vogliamo che gameplay caffè rimanga un vivaio nel quale ci sono tante persone che parlano i videogiochi poi magari qualcuna che vuol far diventare questa passione un lavoro magari è come se diventasse una vetrina quindi gameplay caffè dove poi tutti i grandi siti i colleghi possono attingere per farvi lavorare chiaramente tutti quelli che entrano in gameplay caffè vengono pagati l'articolo viene pagato le news vengono pagate con le cifre classiche stiamo valutando come fare non un crowdfunding vorremmo coinvolgervi di più prossimamente magari far decidere anche a voi parte della linea editoriale parte di quello che facciamo ci stiamo ragionando ci sto ragionando per capire di non fare un terzo crowdfunding a cadenza regolare ancora è da definire sono da definire alcuni dettagli però vogliamo assolutamente continuare a divertirci in un ambiente una sorta di grande forum collettivo dove c'è chi scrive chi commenta chi cazzeggia chi segnala le ultime accadimenti in queste settimane sono stati tantissimi no activision blizzard acquistata da microsoft bungie da sony questa sorta di scecheraggio di ribaltamento di tante dinamiche nel frattempo che un 2022 si prospetta pieno di uscite molto importanti e potenzialmente interessanti dopo un 2021 in realtà più tiepido con grandi chic che ci mancherebbe itx2 fantastico e tanti altri però forse un po più tiepido anche per la mancanza di disponibilità di xbox series x e di playstation 5 una sorta di come dire di passaggio dovuto anche se poi le console sono state appena lanciate e quindi un 2022 si prospetta molto positivo e io ricollegandomi ancora una volta a quello che vi ho detto nel precedente video ho cercato di ragionare insieme a tommaso e tutti gli altri su come tenere viva la fiamma di gameplay caffè senza preoccuparci particolarmente dei numeri particolarmente dei risultati senza diventare ovviamente un mercato di fenomeni da baraccone sempre con un'idea alle spalle ma coinvolgendovi ulteriormente quindi se avete voglia di scrivere ogni tanto tantissimo mettervi in gioco provare sfogare anche se scrivete già da qualche altra parte perché tanto noi siamo senza bandiera potete scrivere ovunque potete provare ovunque ma se vi va anche di sfogare creare la vostra rubrica o altro e questo poi discorso lo farò anche ai miei colleghi ai miei ex colleghi anche storici se vorranno fare una roba del genere noi ci siamo ripartiamo questo canale youtube torna a cadenza perlomeno settimanale e dal prossimo video ovviamente vi parlerò di argomenti videoludici basta annunci per un po così come sul sito su instagram che bello attivo e su tutti i canali personali quindi questo è quanto in gameplay caffè riparte ma non si è mai fermato sono io che mi sono un po fermato gameplay caffè non si è mai fermato una capata in bocca scemo chi legge chiocciola gameplay.caffè scrivetemi in privato se vi va però comunque non è il primo canale oppure su gruppo telegram noi ci vediamo presto la passione dei videogiochi è sempre intatta e di nuovo una bella capata in bocca ciao a you